Bella amichita mani benvenuti qui sul canale nas e ci fa felice farvi esplodere le orecchie Esatto perchè noi lo facciamo apposta Lo facciamo apposta Ti urla, hai dovevi urla come prima E ma fintate che se sto vicino è peggio di fare apposta qua che apposta qua Capito? Guarda che sta qua Apposto Comunque siccome noi Guarda che roba ti è No perchè noi vediamo il tracciato dell'audio E vediamo che il tracciato chiede aiuto 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 Comunque niente siccome a noi ci piace prendere per il culo E fingerci donna Oggi siamo su una delle tante chat erotiche Oh incredibile E neanche siamo entrati E già abbiamo ricevuto Cerco maschi odorosi e porci Ok ma già abbiamo trovato Noi ci siamo chiamati Roxana ovviamente E già ci siamo trovati quattro cosi Allora uno è largo e venoso Cioè Marito voglioso Ciao vediamo che ci dice Poi c'è marito voglioso Ciao sono Alessandro come va? Ciao Roxana Per gli amici Roxy Poi c'è voglio sborr***e Che fa ciao voglio godere Diretto questo è poco preciso capito Istantaneo Voglia di dialogo Questo è un chiacchierone Ciao settiva Sì Questo è già un paranoiano capito? Poi Torniamo sulla chat principale Perché poi Cioè la chat principale Aspetta che il marito voglioso Gli ho già risposto Cioè sesso telefonico Cerco figa Si chiama questo Kik per maniaci Socco le bagnate Io sono donna Eccomo proprio tipo partono i messaggi privati Ragazzi Treviso vado a Venezia Sega Shell Napoli 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 Una troia per me il mio ragazzo Aspetta Voglioso di Voglioso di qualcosa Alcella ti va? Che ami tu Dammi il numero Noci Noci No Cioè Posso anche venire a Roma Quando saresti disponibile? Questo non si Ma ho manco visto in faccia Sì Ma infatti Ma pensa come stanno messi Regà Sì Regà Non potete rombare Già metto del numero Hai Skype o Kik? No 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 Non stanno su Voglioso di cazzo No voglio sb*** Dai Chiama adesso 5 minuti E godiamo Ma che cazzo è? Sei malato Ma perché quando cago di penso Solo con 50 anni di troppo Te la tappo Quanti anni hai? Te la tappo Devo organizzarmi qualche giorno prima Pomeriggio sera Tu quando vai meglio? Io do il meglio di me la notte Ti piacciono gli interi sexy? Ovvio Mini esploratore Avresti voglia di giocare? Che dora esploratrice Io vorrei esplorare E' calzedonia Più generico ci vuole da stà Ero M Ero M Ora F Ero Rossano Ora Rossana Problemi? Problemi? E sono bisex Ero un uomo Un uomo Gay Ora sono Una donna Bisex Io sto in carta Comunque lasciamo un attimo perdere queste chat Andiamo in chat Voglio succhiare un bel canzone Perfetto Canzone però A chi piace sputare? Conosci la macro Anche io Conosci la macro Ginofilia? No Cos'è? Cosa cazzo è? Macro ginofilia Cerca un po' Sono curioso Questo si era capito Ovvero No Cioè Qua abbiamo scoperto un mondo Aspetta Così apre un mondo Voi la conoscevate La macro ginofilia? Noi no Vediamo questo Cosa ci dice Facciamo finta Che io sia minuscolo E' stato solo pochi Milini Aspetta Ed esplori il tuo corpo Entrando nella biancheria Mi posso infilare Dappertutto Che ne dici? Ma che è? Tipo quella puntata di Griffin Che Steve Diventa piccolo Entra a madre Ma questo è Gulliver Seriamente Succhio Bari Sud Tutta quanta Cioè proprio tutta Passivi Effemminati Trav O profetti Da potere a cielo Tu all'inizio non ti accorgi di me Io ti stuzzico le parti intime Vorresti vedere immagini sulla mia fantasia? Sì No sì Così Mi faccio Un'idea Io non le voglio vedere Le giuro Le giuro me sta mettere Uno schifo Sta micro ginofilia Macro ginofilia Solo Roma? Sì Cioè Fino a che Non inventano Il dono Del lupi Degli teletrasporto Meglio Cioè lo capiscete più Del teletrasporto Teletrapporto 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 Perché Qua ti ne hai 50 Ma 24 per tappare I centimetri Cioè ma te rendi conto Eeeh Ma così tappi poco Ma per la madonna Un salame in un corridoio Aspetta Amici esploratore Mi ha mandato un link Mirvi Ciao bella maialena Come va? Ciao bel porcellino Ah 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 Bene Cosa cerchi in chat? Il cazzo Conosci La Magro Ginofilia? Ah 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 Che famo io Riciramo Sì Ah 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 Aspetta Siamo Cerchiamo Viri esploratore Viri esploratore Mi piacerebbe finire Per sbagliare Essendo minuscolo Mi piacerebbe finire Per sbagliare Il tuo cibo Senza che tu Ce ne accorgi Che ne dici? Ma raga ma che cazzo Sta di questo Così poi ti mangio No cos'è Praticamente Io sono un gigante Io sono Piccola E tu sei Gigante E facciamo Finta Che io Possa Esplorare Tutto il tuo Corpo Come un piccolo Esplorando il corpo umano Un mini esploratore Un mini esploratore Ecco perché si chiama Un mini esploratore Hai capito? Wow sembra interessante Per me ne ha capito un cazzo Cioè sicuro Palermo fra un cazzo Aspetta 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 Mi piace il pissing Ciao Guarda quanti Guarda quanti No Un attimo Senti dove te la spedisco Allora Se giuro gli darei col felice Giuro Non ci abito più Eee vai Io lo do No no Davo gli indirizzo del cazzo Davo gli indirizzo del coso Davo gli indirizzo della polizia Del parlamento Del parlamento Andiamo al parlamento E al solito c'è denuncia No Ma regà Non è voluto bene No no Non glielo guardavo là No al parlamento Cerca una via buffo di ruolo Aspetta A che gli avvio A te No che a me C'è cerca l'indirizzo E poi No ma non possiamo dare l'indirizzo così Dai Vedo quando arriva il coniore E mi presento io Cazzo me frega Ma ne pare Ma poi a chi ha dai Che cazzo ne so Cioè Ma che schifo Poi chissà chi è quello Che l'ha comprata Dai ma che è Alla Alla ragazzi io Aspetta Lasciamo il mio esploratore Per me sono montagne Ha capito Perché lui è piccolo Capito Facciamo che parto dal tuo collo Dai questo è poeta parte 2 E vai 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 Dai e si E tu sei straita sul letto Ok Sempre Perché lei pensa Noi siamo donne Ma che sa Questo sapesse chi c'è All'altra parte Gente che sta a fare un video Su youtube Ti piace nero Tu senti qualcosa Che si muove sul tuo capetto E lo senti bagnato Che fai Donna schicca Cerco di Comunque niente Quello che volevo dirvi E se vi è piaciuto questo video Comunque E no Andate a documentare Sulla macroginofilia No no Non lo fate No Non lo fate Guarda ragà È un po' disturbante Sì sì è qualcosa di importante Aveva disturbato Ma la segnerò stanotte Deve essere un piccolo No questo è un trauma Che ti porterai Sì sì Non potrai più vedere cose grosse Riente ragazzi Se questo video vi è piaciuto Lasciamo Tot like E 5000 Per avere un prossimo episodio E noi continuiamo questi chat Fighissime Ovviamente censurate come ti deve Perché non possiamo far vedere più di tanto Perché ci sono anche dei bambini Niente Noi ci becchiamo come sempre Al prossimo video Se questo video vi è piaciuto Lasciamo sempre il like Come ho detto Sì 3000 volte Tanto qua la gente continua a scrivere Bella Ah nice try Ciao